ecco come finisce la nostra dissiere buongiorno ragazzi oggi facciamo un bel girettino a sesto testiamo l'occhialino nuovo come vedete splendente e abbiamo montato davanti una ruota della dissestor per avere più attrito vediamo come va visto che oggi è particolarmente emotoso se c'è da fare un po' di strada che non riprenderò quindi ci vediamo direttamente quando incontro questo ragazzo a sesto il nostro compagno di oggi è Francesco Florio insomma finiamo a lui e poi si inizia a salire eccoci ragazzi mi è venuto a prendere quel fulgore quindi ne abbiamo approfittato per salire un po' mi fa fatica a me si preannuncia una discesa molto motosa abbiamo deciso di fare un pezzo di salita per riscaldarci ma forse è stata una pessima idea questo è stato bellissimo anche se è mutuoso ma è stato bellissimo comunque ho toccato i 46 km per l'aria a scendere? con l'altro voglia? a scendere con il gps bellissimo pazzesco come si chiama questo percorso che andiamo a fare ora? roller coaste ok ragazzi roller coaste ha detto più o meno sono un quarto d'ora di discesa la difficoltà com'è Franci? mega difficile ok e iniziamo già a riscontrare le prime difficoltà con la mota ciao oh 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 aspetta però ma che se grullo comunque non ci manca niente vai avanti se vai grip pazzesco in un terreno così certo ovviamente in in salita in strada si dura un pochino più fatica raga qua ti hai messi male? eh queste ci sono buche casco oh forse croio ma questo è grullo ripresa all'ultimo guarda qua oh si entrava dentro ti ho messo ti ho messo ma c***o da c***o odio c***o troppo l'eco ma andava dietro guarda è inesistente Non si riesce a fare una discesa che c'è subito la salita Andiamo ora a un certo punto Inizia ora bello Buono 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 Siamo? Madonna tutto di traverso tutto di traverso Io non c'ho più neanche la ruota davanti No no è infattibile Sono bello stanco Noi ci pensavo di divertirsi oggi invece è più Pazzo sono morti Dai dai E' bello No No E' un uccellino Tutti gli scalini ho preso Brava che cazzo di scalini c'è qua Oh Senti nenti Ok 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 ci sono Eccolo Voglio rifare Fermati fermati Vai vai Questa si ritaglia Soltino Ho fatto il salto Eccolo Eccolo WOOOOO Vai 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 F*****ti 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 Infatti penso che questo prima non era così eh Florio Ma che dite E meno male non è caduto proprio ora si passava a noi Dai vai F*****ti Sto guidando solo con la ruota davanti Vai F*****ti vai Mamma mia Aspettacolo Bellissimo Da asciutto si fa Dai Vedi Alpine Te salti Te salti Se Sì Salti Riatteri giù Se arrivi troppo forte Ti puoi meglio fareci Andai troppo forte Vado a finire di sotto Finite che ando a pello La moto a bocca La moto a bocca Oh Pogna che deciso è questo Oh Ma che cazzo No No Sono due Fra Ma sono due sono Ecco come finisce la nostra disiede Ma io mi sono cacato Oh Magliate ragazzi Madonna mi si scivolano questi sassi Occhio 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 sono arrivati raga per oggi è tutto la discesa non ve la riprendo più perché il bello è è finito ci siamo buttati via cadute risate anche se siren 2 suscar riders non volano un cazzo al prossimo video raga io io l'occhio l'occhio Woohoo!